Spaccio, prostituzione e degrado ormai a Modena sono qualcosa di assolutamente incontrollato. Noi abbiamo voluto disegnare una mappa per rendere in maniera plastica proprio quella che è la situazione in modo particolare del centro storico, ma non solo, perché anche in zone periferiche della città esistono problemi ormai conclamati e permanenti, però è chiaro che il centro storico deve essere il biglietto da visita della città e questa situazione non è assolutamente più tollerabile. Non è tollerabile soprattutto rispetto all'approccio politico che questa amministrazione comunale ha rispetto a queste problematiche, quindi quasi di sufficienza, quasi in cui si tende sempre a ridurre il problema a una percezione dei cittadini. I dati del Sole 24 ore invece parlano chiaro, Modena è tra le prime 15 città in Italia, tra le più insicure e probabilmente molti modenesi nemmeno lo sanno perché immagino che grandi città metropolitane e alcune zone del sud abbiano una criminalità più diffusa. Non è così, noi siamo ampiamente nella zona UEFA della criminalità tra le 108 provincie italiane e è chiaro che questo è assolutamente un problema. È un problema anche perché in altre città dell'Emilia-Romagna le situazioni migliorano, a Modena invece la situazione è peggiore, sia come numero di furti denunciati, come numero di furti in appartamento, siamo tra i primissimi posti, siamo in zona Champions League, sempre per usare una metafora calcistica e così per il riciclo di denaro. È chiaro che su questo serve un'attenzione maggiore e serve un coinvolgimento maggiore di maggior collaborazione con le forze dell'ordine che non sono in grado e non sono messe nelle condizioni di poter lavorare al meglio. Pensate solo che a Modena 40 agenti sono dedicati ai permessi di soggiorno e quindi all'ufficio di migrazione e soltanto 7 al controllo del narcotraffico. Questa situazione non è più tollerabile, il PD si riempie la bocca di portare la questura di Modena in fascia A che comporterebbe un maggior numero di agenti, il tema non è neanche quello più che altro perché il loro governo li ha smentiti più volte dicendo che questa possibilità non è assolutamente nelle corde del governo. Ci basterebbe che quel famoso patto della sicurezza firmato in pompa magna dal sindaco Muzzarelli e dall'allora ministro degli interni e suo collega di partito Minniti venisse applicato. Questo porterebbe a Modena quelle forze dell'ordine in aggiunta che sarebbero e sono assolutamente necessarie per poter controllare meglio la situazione. Altresì abbiamo fatto ad agosto una manifestazione davanti al posto integrato di polizia per chiedere l'implementazione di quel posto che va a controllare questa sorta di triangolo nella zona ovest del centro storico in cui oggettivamente ad alcune ore della sera diventa impossibile anche soltanto pensare di fare una passeggiata. Noi abbiamo inserito in questa mappa i casi permanenti di degrado, quindi i casi, sappiamo benissimo dove si spaccia, e dopo purtroppo magari spesso qualche intervento viene fatto e dopo qualche giorno si riprende continuamente a spacciare e stiamo, ripeto, guardando soltanto la zona del centro storico e che problemi ci sono stati diciamo anche nella zona tra la Vignolese e Moreali con delle bande di nigeriani che abbiamo denunciato più volte, c'è stato un intervento e dopo pian piano, magari dopo qualche giorno, però riprende in maniera assolutamente imperterrita le attività criminali e criminose. Noi crediamo che ci sia arrivato veramente il momento di porre un freno a questa cosa, bisogna alzare la testa, reagire e mettere forze dell'ordine in condizione di operare al meglio. Noi crediamo che ci sia arrivato a questa cosa,